Coltivava marijuana in cucina per poi rivendere la sostanza stupefacente in strada. Per questo un 48enne italiano residente a Lamporecchio, nel Pistoiese, è stato arrestato dalla polizia di Pistoia. L'arresto è avvenuto a seguito di un'attività investigativa della squadra mobile attraverso servizi di appostamento e pedinamento iniziati nei giorni scorsi a seguito di segnalazioni di alcuni cittadini che avevano notato un movimento sospetto di persone nei pressi dell'abitazione dell'indagato situata nel comune di Lamporecchio. Una volta avuta conferma che quanto segnalato corrispondeva al vero, è stata effettuata una perquisizione domiciliare che ha consentito di trovare e sequestrare complessivamente 375 grammi di marijuana già confezionata e pronta per essere ceduta, 12 grammi di hashish e 11 piante in vaso di marijuana, nonché un bilancino di precisione. Le piante di marijuana venivano coltivate appunto nella cucina dell'abitazione. L'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.